La trasformazione di Richter è una complicanza alla quale possono andare incontro alcuni pazienti affetti dalla leucemia linfatica cronica e per la quale ad oggi non vi sono terapie standard efficaci. La congresso europeo di ematologia, l'EHAA che è terminato da poco a Francoforte, arriva però una novità importante per il trattamento di questa condizione. Sono stati infatti presentati in una sessione orale ed erano stati presentati anche all'ASCO, il congresso americano di oncologia è terminato pochi giorni prima, i risultati di uno studio internazionale coordinato dall'ospedale Niguarda di Milano, lo studio molto, nel quale si è sperimentato una combinazione di tre farmaci che ha dato risultati molto promettenti. Noi ne parliamo con l'autrice principale dello studio, la dottoressa Alessandra Tedeschi. Dottoressa ci spiega innanzitutto che cos'è la trasformazione di Richter, quanti pazienti con leucemia linfatica cronica vanno incontro a questa trasformazione e soprattutto qual è la loro prognosi. La trasformazione Richter è una trasformazione in un linfoma aggressivo della leucemia linfatica cronica. A seconda delle cattivistiche abbiamo percentuali che vanno dai 5 ma anche oltre, addirittura in qualche serie 12, 15 o anche di più di percentuali di linfatica cronica che si trasformano in Richter. È difficile capire veramente le percentuali di trasformazione. Nella gran parte sono dei linfomi aggressivi a grandi cellule e sono clonalmente correlate al clone della leucemia linfatica cronica. Hanno una prognosi veramente severa, con l'icamio immunoterapia abbiamo delle mediane di sopravvivenza dei pazienti che vanno dai 3 ai 12 mesi, ma anche con i nuovi target agents, parlo per esempio inibitori del PTK, usati in immunoterapia abbiamo delle sopravvivenze mediane che vanno dai 4 ai 6 mesi. Quindi veramente una malattia a pessima prognosi. Nello studio che appunto il suo gruppo ha presentato sia al congresso americano di oncologia sia diciamo una settimana dopo al congresso europeo di ematologia, voi avete provato a valutare in questi pazienti con trasformazione di Richter una combinazione di tre farmaci che sono Venetoclax, Obinotuzumab e Atezolizumab. Come mai avete deciso di combinare proprio questi tre agenti? Allora l'idea di combinare questi tre agenti viene dalle caratteristiche biologiche della trasformazione di Richter. Innanzitutto abbiamo utilizzato un checkpoint inhibitor proprio perché c'è una più elevata espressione di PD1, PDL1 nelle trasformazioni Richter. I pazienti spesso presentano un'aberrazione della TP53 e sappiamo che il Venetoclax è particolarmente efficace nell'attività nell'inibire la TP53 e poi abbiamo utilizzato un anticorpo monoclonale come Obinotuzumab perché ha sicuramente un'attività migliore del rituximab nella attività nei confronti delle cellule clonali neoplastiche. Ci racconta qual è il disegno di questo studio? Allora innanzitutto l'endpoint primario era quello di arrivare a dei risultati migliori rispetto a quella che è definita la terapia standard diciamo del Richter anche se di terapia standard poi in una malattia che è una prognosi così severa non si può parlare che l'RCHOP che è il trattamento tipico del linfoma a grandi cellule che nel Richter però dà dei risultati pessimi a differenza dei grandi cellule e dei nomi. Abbiamo incluso nello studio 28 pazienti e questi 28 pazienti sono stati sottoposti al trattamento con le combinazioni Obinotuzumab, Adezolizumab e Venetoclax continuativo per un totale di 35 cicli mentre Obinotuzumab è stato somministrato solo dal ciclo 1 al ciclo 8 e l'Atezolizumab fino al ciclo 18. Che risultati avete osservato sul piano dell'efficacia di questa combinazione tra i farmaci che avete appunto sperimentato in questo studio? L'obiettivo primario è stato raggiunto perché abbiamo avuto un 68% di risposte in questi pazienti e soprattutto il 29% è riuscito a raggiungere una remissione completa e questo in un Richter è assolutamente importante. Va sottolineato che tutte le diagnosi sono state riviste centralmente e questo dà un valore aggiunto allo studio, un valore fondamentale perché lo stesso anatomopatologo ha potuto valutare se fossero veramente dei Richter o se non fossero delle olgemie linfatiche croniche in fase accelerata e il risultato sarebbe stato in questo caso diverso. Abbiamo visto che nessun fattore biologico dei tanti che abbiamo considerati aveva un impatto sul raggiungimento della risposta ma soprattutto quello che abbiamo potuto rilevare è che dei 19 pazienti che hanno risposto la durata della risposta è stata in alcuni particolarmente lunga nel senso che più del 50% dei pazienti hanno avuto una durata della risposta superiore all'anno e questo nella sindrome di Richter è fondamentale perché quello che tendiamo a fare nelle sindrome di Richter se il paziente è giovane è portare il paziente a una procedura trapiantologica che è l'unico modo che abbiamo per guarire il nostro paziente. Questo si può fare solo se eroghi una terapia efficace che ti dia poi il tempo di cercare un odontore o di preparare il paziente al trapianto. In questo caso appunto nei pazienti rispondenti abbiamo avuto delle durate risposte prolungate che ci hanno permesso anche alcuni pazienti di procedere al trapianto allogenico. E per quanto riguarda invece la tollerabilità e sicurezza di questo trattamento sperimentale che cosa emerge dal vostro studio? Allora la combinazione è stata ben tollerata ai pazienti diciamo che questi pazienti sono spesso pazienti che ci arrivano con malattie importanti malattie a balki in condizioni generali spesso scadute e alcuni di questi pazienti avevano anche un ECOG di due. Non abbiamo visto situazioni immunorelate che sono quelle che possono verificarsi con l'utilizzo di anti-PD-1 che ci determinassero un'interruzione della terapia. abbiamo avuto due decessi che sono comunque percentualmente quelli descritti due decessi su 28 pazienti quelli descritti anche con l'immunochemioterapia forse con l'immunoterapia ce ne sono un pochino di più nella sindrome Richter un paziente di questi è deceduto per Covid diciamo che purtroppo siamo stati sfortunati perché questo è stato un protocollo nato e aperto durante il periodo della pandemia e malgrado ciò abbiamo avuto dei pazienti diciamo tenuti in sicurezza. Sulla base dei risultati che avete ottenuto dunque quali sono i messaggi chiave che si ricavano dal vostro studio? Uno dei messaggi chiavi non so se questo sia lo schema ottimale per i pazienti con sindrome di Richter ma sicuramente il messaggio ottimale è quello che gli inibitori sia l'inibitore del BTK o comunque il venetoclax che abbiamo usato in questo caso in combinazione con un checkpoint inhibitor possono aiutarci nel trattamento della sindrome di Richter le durate risposte prolungate sono fondamentali bisogna identificare quali pazienti ottengono queste durate risposte perché poi la cosa fondamentale è riuscire a portare il paziente al trapiento quindi avere un schema terapeutico poco tossico che determini poi la possibilità di un bridge come lo chiamiamo noi di un ponte al trapianto allogenico.